Avvicinatevi, avvicinatevi, vi vogliamo giù, vi vogliamo fare un applauso, facciamo un gioco di 1-2-3 stella, dai, ma quanti siamo, oh, siete tantissimi, che belli, dai, venite, venite, 1-2-3 stella, dai, riempiamo la parte davanti, dai, riempiamo questa fascia davanti, non mi vergognate, dicono che è la pista da ballo, ma il ballo lo fate voi, e allora la prima cosa che dobbiamo fare tutti insieme, compresa Claudia, e alzate le mani al cielo, alziamo tutte le mani, tutte le mani, sia che avete il telefonino, il pallino, la birra, tutti con le mani all'aria, tutti con le mani all'aria, e poi battiamo le mani al ritmo di musica, così, eh, 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 oh, che bel basso. Vina, ninela, ninela, mi ha te calipera, li campanenti dolci di tutona, cadete sono chievo, patine sera, ninela, ninela, mi ha te calipera. E su, paninella, ninela, ninela, comani, periccio, belle, la, ribella. E su, paninella, ninela, ninela, comani, periccio, belle, la, ribella. E allora siete un pubblico meraviglioso, spettacolare, mi è un peccato vedermi così. Adesso guardate quello che faranno Stella e Claudia al prossimo ritornello. No, Claudia è già prontissima. Facciamo il ritornello? Dobbiamo andare semplicemente prima a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra e poi a sinistra. Ma come, dite voi? Ve lo insegneranno loro, anche Giuseppe. Giuseppe, Stella, Claudia. Vieni via! Poi, vai! Indietro! Appanti! Indietro! Adesso, vieni via, vai! Mi raccomando al prossimo ritornello, eh? Eh, eh, le mani, le mani, le mani, non metto le mani! Su, su, su! Su, vai, vai. 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 Su, 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 vai, vai.